Come può l'apertura di un mobile diventare un'esperienza di lusso? Toccando con mano cosa si intende per lusso e non lasciando nulla al caso. Rendendo possibile l'impossibile con attrezzi che superano i limiti fisici. Condividendo le proprie conoscenze e migliorando le possibilità di crescita. Tutti per uno, uno per tutti. Utilizzando solo materie prime che garantiscano di soddisfare anche le esigenze più elevate. Un mobile che dura tutta la vita. Mettendo in discussione, sviluppando e perfezionando ogni idea finché si ottiene un risultato impeccabile. Con coraggio, credendo nelle visioni e guardando sempre il bicchiere mezzo pieno.